Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale quest'oggi, tier list dopo l'uscita e l'entrata in vigore della banlist di febbraio 2023 il meta sta cambiando, ci siamo lasciati alle spalle il vecchio meta T0 e quindi andiamo a classificare i pari mazzi abbiamo la solita griglia che va dal T1 al Forfan e quindi procediamo con il primo deck che è Etlitch un deck che ha sofferto moltissimo il vecchio meta per la presenza massiccia dei Bistial attualmente i Bistial si vedono un po' di meno ma sono ancora presenti comunque il deck è un deck con un motore piuttosto solido, può giocare tanti Frodgate come ben sappiamo anche carte di main come Lava Golem che vanno a distruggere le board avversari quindi direi di metterlo in Rogue abbiamo Lirilusk, Lirilusk con 3 Brigade è un buon mazzo, anche questo è un Rogue fa la sua combettina con Storm A2 che gli era stato ridato se non sbaglio due banner fa riesce di nuovo a fare tutte quelle combo con F0, finisce anche con il mostro che rimbalza quindi è un buon Rogue, poi abbiamo Sprite T1 e mezzo perlomeno, il mazzo è piuttosto forte ha perso l'elfa, ha un po' più difficoltà a tirar giù la Todali sicuramente la versione pura la vedremo molto molto di meno può comunque in ogni caso tirar giù la Todali però ci sono le versioni con Runic, c'è anche la versione con G-Skim anche con 3 Brigade, c'è si può giocare anche con Evil Twin è veramente un motore molto molto versatile e piuttosto forte direi che comunque Sprite Runic è quello forse un po' più da tenere sotto che con le altre versioni tutte un gradino sotto presi singolarmente e gli altri deck 3 Brigade anche sarebbe un Rogue come Evil Twin e G-Ski poi abbiamo Spiral che direi di metterlo for fun finché non esce Masterplan il deck è piuttosto gestibile quando uscirà Masterplan le cose forse cambieranno è un po' come True Drago, finché Masterpiece rimane bandito il diagramma 1, il mazzo è piuttosto contenuto se tireranno fuori quelle carte il mazzo tornerà a essere piuttosto forte poi abbiamo Flanderys Flanderys che è un deck che ha perso la sua win condition più sbagliata ovvero la statua barriera del vento il deck si fa sempre Lampen, Riza, l'Apex una cosa forte ancora è la trappolina dell'Arpia e direi che comunque lo vedremo molto di meno e lo piazzerei tra il T2 e il Rogue perché il deck non è morto, ha perso semplicemente la sua win condition più sbagliata però tutto il resto c'è ancora quindi tra il Rogue e il T2 per adesso lo metto come il migliore dei Rogue poi abbiamo Despia, Branded allora, questo è un discorso che vale per parecchi mazzi cioè mazzi che erano forti prima del meta T0 quindi con l'ascesa di Tierlaments poi sono scomparsi quindi mazzi come Despia, anche Swarzel erano forti prima la loro forza è rimasta invariata e in alcuni casi, in quello di Despia gli sono usciti nel mentre anche dei supporti i Beastial, Cartesia quindi tutte carte che sono andate a rinforzare ulteriormente il mazzo è un mazzo che ha toppato anche nel meta T0 quindi comunque la sua forza c'era anche prima e attualmente è uno dei mazzi più forti riesce andando prima a fare delle board devastanti è forte andando secondi gioca praticamente tutti i Beastial di Meln, Dovelyon, Druisworm, Magnamut ovviamente è fortissimo il mazzo forse è il mazzo più forte attualmente in circolazione poi abbiamo Punk, Punkterion è un mazzo particolare da inquadrare perché è un mazzo che si fa la sua combettina grazie al nuovo sincro di Photon Hypernova riesce di nuovo a fare qualcosa di carino di solito finisce comunque con 2-3 negazioni sul terreno a Baroness, a Recolus qualche ht in mano perché il deck ne gioca veramente tantissime tra il T2 e il Rogue anche questo poi l'Abrint io lo metterei addirittura T1 una trappolina nuova Big Welcome è veramente enorme aiuta il mazzo sul punto di vista della consistenza è un rimbalzino dal cimitero quindi potete andare a rimbalzare carte dell'avversario il mazzo è veramente piuttosto solido o T1 comunque il migliore del T1 e mezzo che l'altro T1 è cash tira per i risultati che sta facendo a me il mazzo non piace tantissimo comunque è un mazzo che è facilmente counterabile andando primi se non lo si interrompe blocca tutte le zone banna carte dalla cima del deck vi banna anche una carta dall'extra deck però alcuni mazzi riescono bene a contrastarlo andando secondi cash tira non è poi così opprimente comunque quando va prima e fa tutta la combo non mette negazioni sul terreno gioca shifter il che è auto win contro parecchi mazzi è in generale un buon mazzo soprattutto per la meccanica particolare la sua peculiarità di andare a bloccare le zone quindi comunque il T1 per i risultati che sta portando a casa se lo merita però ripeto la brint comunque o il terzo T1 e il migliore di uno e mezzo insieme a sprite poi abbiamo Darkward è un mazzo che riesce a fare la combo and drop qualche cosa di carino però niente di che stiamo tra il Fort Fun e il Rogue lui finisce Fort Fun, Violence è un mazzo che fa veramente tanta fatica anche Blackwing non dire magari non Fort Fun perché andando primi comunque se non lo si interrompe anche questo fa una board della madonna però andando secondi magari un po' di fatica la fa il mazzo e probabilmente soffrirà parecchie cose che si giocheranno per andare a contrastare questi due mazzi poi abbiamo Ninja carino come Rogue Plunder Patrol primo T2 perché T2? perché il nuovo Syncro livello 8 la nave di livello 8 luce è parecchio forte va a rompere parecchie scatole i mazzi più forti del momento tra cui Castera tra l'altro ora che mi è rivenuto in mente con Plunder Patrol che può dare il token a Castera e quindi rompe di scatole anche Branded può giocare la combo con il Discepolo di Ra e quindi andare a mettere il Discepolo sul terreno dell'avversario e Castera a quel punto non gioca più quindi Branded secondo me anche meglio di Castera soprattutto quando va primo per Castera è impossibile non dico impossibile batterlo comunque sarà molto difficile battere Branded però Plunder Patrol è un buon deck la nave anche oscurità è piuttosto forte quindi direi che T2 se non merita tutto come anche Drago Drago è un deck che per parecchio tempo non si è visto comunque è un deck che con una carta che fa tutta la combo gioca tutti i Bistial da Lubellion tutto il pacchetto Bistial un po' come Branded quindi sia Lubellion che la magia che la trappolina è veramente forte Drago secondo me potremmo anche rivederlo abbiamo Code Talker Arrug forse pure questo Arrug non è mai stato toccato era forte prima del meta T0 tornerà ad essere forte è un mazzo che non costa neanche tanto ha avuto delle ristampe all'interno di Mama quindi è un buon mazzo da tenere sott'occhio e tra l'altro se non sbaglio dovrebbero ristampare la Baronessa tra qualche tempo quindi è un buon mazzo da tenere veramente in considerazione se non potete andare a spendere tanto se volete un deck che attualmente può dire la sua Sky Striker è un buon rogue attualmente può sfruttare molto bene la nuova TTT la Triple Tactic Trust è un mazzo che può sfruttare molto bene le altre magie che vanno a contrastare ad esempio Castira come i Book perché gli fanno da Spell Count al cimitero è un mazzo veramente un buon rogue poi abbiamo B-Trooper For Fun e Mr. Classico Rogue parecchi mazzi di Cyberso come anche Salaman Grit fanno la loro combettina però facilmente ribaltabile niente di che poi in particolar modo ad esempio Salaman Grit magari andando primo tipo solo lupo reincarnato con la trappolina sono mazzi che di solito giocano comunque tante HT quindi bisogna sempre tenere in mano tenere in considerazione che l'avversario può avere due o tre interruzioni in mano però direi che attualmente non si spostano questi dal rogue poi di Bromancer anche questo ha sofferto parecchio il ban dell'erfa può giocare comunque il Codebreaker direi che anche questo finisce tra i rogue Endymion sono un po' indeciso del rogue For Fun non sono un grande amante dei pendoli quindi non so mai come valutarli benissimo però direi che Endymion ne lo sta messo bene Draco Slayer l'avrei messo sicuramente uno o due gradini sopra poi lui rogue Synchron finisce direttamente in For Fun è un deck divertente da giocare tanto divertente però muore veramente da un'interroguzione tirata bene Nibiru lo devasta ci sono tanti modi per ribartargli da bordo è un deck carino da giocare così poi abbiamo Matmech Matmech è un buon mazzo forse è il migliore tra quelli che ho messo i rogue questi qua sono i migliori rogue attualmente credo quindi sappiamo tutti quello che fa Matmech direi di lasciarlo lì Godbride a me non piace per nulla non metterei For Fun c'è la versione con Fun che fa qualcosina però attualmente non lo vedo benissimo Grey Maggio la stessa cosa misto quindi vino il mostro la disaster che è stato rimesso a 3 o a 2 adesso mi sto confondendo comunque può dare una mano al mazzo ma il mazzo soffre tante cose io lo metterei comunque come rogue avendo messo anche rogue altri mezzi che non sono particolarmente forti Dino riesce comunque a fare qualcosina mettiamolo tra il rogue e il For Fun anche questo Crystal vista c'è stato un periodo in cui ha fatto qualcosina con l'hype dello structure deck e roba varia sta messo veramente male poi abbiamo Exorcister che era forte perché era un counter a tier adesso che tier comunque è andato per un piano a scomparire si vede sempre meno il deck ha perso comunque parte della sua forza fa le sue giocatine però anche qui siamo alla presenza di un rogue tier c'è la versione tier cash tira che è forte il mazzo ovviamente puro praticamente o la sua versione con i danger e roba varia non è forte però quella con cash tira è piuttosto interessante quindi direi rimetterlo magari di 2 wind shadow fa wind da passo non è forte quindi lo mettiamo qua shadow con magari usato come pacchetto all'interno di dogmatica invoked anche non è che faccia chissà gran cosa può salire di un gradino ma non più di tanto ecco non c'è qui ma dogmatica l'avrei messo come rogue perché comunque dogmatica con il rituale nuovo fa una lock piuttosto carina mazzo altro mazzo che adesso parlando di rituali mi torna in mente è drytron drytron è un mazzo secondo me che può anche tornare perché comunque anche lui fa la lock può fare ftk ha sofferto parecchio il vecchio meta un po' come eddrich ha sofferto parecchio bestial però attualmente il mazzo è abbastanza consistente abbastanza forte quindi potrebbe anche tornare a fare qualcosina abbiamo scareclaw la versione pura andrebbe dritta in time for fun però c'è una versione con brave anche una versione con castilla che gioca unicorn ferrir castilla teosi o meglio nota come papaglia quella carta e quelle versioni combinano qualcosina dire di metterle come rogue poi abbiamo orcus che finisce di return for fun e l'ultimo ma non ultimo ovvero adamantia adamantia potrebbe essere un buon rogue è un deck che ti mette giù quelle due negazioni qualche acquetti in mano questo da considerare magari riesce a mettere la rado della luce ad arco la baronessa quindi cioè come mazzo non è malissimo non è neanche fortissimo quindi direi di metterlo qui vado un attimo a ricontrollare la lista come già detto branded e castilla probabilmente sono i mazzi più forti insieme alla brint che ho messo un gradino sotto insieme a sprite e le sue varie versioni anche soprattutto quella con runic runic anche preso da solo è un mazzo piuttosto buono t2 sworzol plunder patrol drago e tier castilla però la versione tier castilla secondo me è una buona versione del deck che riuscirà a combinare magari qualcosina questi sono tutti i mazzi piuttosto buoni forse plunder un pochino sopra perché comunque è un buon matchup contro castilla quindi direi di metterlo un filino sopra magari agli altri e tra i t2 forse andava messo anche ricca no ma ricca su una valon no forse tra i migliori rogue quello perché andando quando va primo fa una combo della madonna quel mazzo però poi andando secondo ho notato un po' che fatica un pochettino non è un mazzo che tra l'altro ha tanti slot disponibili per ht e roba varie quindi può giocare però rivalità dei signori della guerra anche quello è un mazzo un po' particolare da inquadrare è sicuramente un mazzo decente poi abbiamo rogue con matmech skystriker flanderies pantherion abbiamo poi diciamo questi sono forse i migliori rogue insieme magari a 3 brigade e lirius che poi tutti gli altri diciamo che questi qua per primi sono i migliori rogue e poi gli altri che sono un po' più fanno un po' più fatica rispetto a questi ricordiamo che 3 brigade evil twin e gis che hanno delle versioni con sprite che sono piuttosto carine quindi abbiamo tutta la carrellata dei rogue for fun abbiamo shadow come avrei messo anche for fun invoked giusto dogmatica l'avrei messo rogue per la nuova versione rituale che è carina poi abbiamo orkust gold pride crystal beast synchron endymion spiral green maju beatrooper e violence direi che questi sono tutti for fun a questo punto credo che la terra sia piuttosto onesta ditemi voi cosa ne pensate nei commenti se cambiereste qualcosina e noi ci vediamo ad un prossimo video del canale del canale